Movie è un progetto fotografico che ho realizzato appositamente per il Pardo Live e occuperà la terza di copertina ogni giorno. Io ho pensato a Move e a Movie e quindi cerco di avere in ogni fotografia un elemento, passatemi il termine, di disturbo. Amo il Festival di Locarno perché mi permette di lavorare come piace a me. Io riesco a girare con la bicicletta, riesco a lavorare in tutta tranquillità. Il progetto a cui sono più legato è The Mirror Image che ho iniziato l'anno scorso un giorno durante una Fashion Week, un punto d'incontro sia con i giornalisti che con gli attori, i registi e ho cominciato a lavorare durante le normali poter session anche con l'iPhone e poi alla fine è piaciuto la redazione del Pardo Live che ha pubblicato una doppia pagina il penultimo giorno, se non sbaglio, del Festival. Da questo momento poi è iniziata la collaborazione che mi porta ad essere qui adesso. Grazie a tutti.